Tomei, mancano pochi mesi all'inizio della stagione balneare, si parla ancora di problemi del mare, del fiume di Pescara, di questi lavori per il nuovo depuratore che potrebbero prolungarsi. Siete preoccupati? Certo che siamo preoccupati, un problema annoso che si ripresenta puntualmente ogni anno prima della stagione senza che ci siano risposte né per le imprese balneari e tanto meno per i cittadini. A questo punto cosa bisognerebbe fare secondo voi? Innanzitutto da parte delle istituzioni della politica dei segnali chiari e operativi. Noi ci siamo lamentati perché il Consiglio Comunale è andato deserto l'altro giorno su un provvedimento che comunque è un forte aiuto, una forte risposta per il problema dell'inquinamento. Cioè voglio dire se non si colgono queste occasioni per poter fare delle cose, in questo caso un secondo depuratore, voglio dire come riusciamo a prepararci di fronte alla stagione e soprattutto come facciamo a dire ai turisti e ai cittadini che si stanno facendo delle cose e che siano sicuri. I imprenditori balneari sono a dir poco arrabbiati anche perché quella passata è stata una stagione record con numeri negativi per i balneatori ma per tutto anche l'indotto. Il rischio è che anche il prossimo anno, la prossima estate possa ripetersi tutto questo? Certo, noi abbiamo peraltro effettuato un'indagine su 54 comuni costieri italiani dove il fatturato e gli arrivi sono aumentati e su Pescara abbiamo scontato invece questa negatività per i problemi legati appunto alla balneabilità. Ecco, questo è il terzo anno, francamente insomma diventa difficile poter pensare che le cose possono migliorare se continuiamo in questo modo.